Il comune di Roscigno, in collaborazione con le associazioni Roscigno Più, Terra Mia, Proloco Roscigno Vecchia e Servizio Civile, in occasione della decima edizione della Festa dell'Asparago Selvatico, indice la seconda edizione del Premio Serafina, che si terrà il 4 maggio 2019 alle ore 20.30 a Roscigno, in piazza Aresciniti. La seconda edizione del Premio Serafina vuole ricordare l'usanza in voga fino alla metà degli anni 90 a Roscigno e zone limitrofe, quando gli sposi, dopo i festeggiamenti del matrimonio a fine serata, erano soliti salutare parenti ed amici con il secondo vestito, l'abito del viaggio di nozze, chiamato così appunto perché subito dopo i saluti si partiva per il viaggio di nozze. Ormai questa tradizione in disuso appartiene ad un passato a noi prossimo, ma che va raccontata per conservare e tramandare il nostro patrimonio culturale, la nostra storia, la nostra memoria. Il Premio Serafina quest'anno è la seconda edizione, è appunto dedicato alla nostra presidente che è scomparsa prematuramente. Quest'anno il Premio Serafina sarà un po' diverso dall'anno scorso perché evitiamo di ripeterci. Per quest'anno le ragazze sfileranno, le concorrenti sfileranno con un vestito che sarebbe il secondo vestito che si usava una volta quando si andava in viaggio di nozze. Un'usanza da noi fino agli anni, più o meno metà degli anni 90, adesso non si usa più. Quindi è un qualcosa di nuovo rispetto alle solite cose che si fanno sempre, anche per non ripeterci. aprirà la serata una sfilata di abiti da sposa, col periodo storico più o meno fino agli anni 95 quando c'è stato appunto questo vestito da viaggio, il secondo vestito. Poi le ragazze dovranno anche portare una ricetta, una ricetta di dolci tipici del buffet della sposa per arricchire un po' anche la serata. È rivolto a tutte le ragazze, dai 15 anni fino a quando uno se la sente, 90 anni va benissimo, è un modo per stare insieme anche perché la nostra associazione, l'associazione culturale, ci teniamo a tramandare le nostre tradizioni, facciamo ricerca storica, dialetti, tutto quello che riguarda un po' la cultura del nostro territorio.